136 chilometri di cammino a piedi da Polignano a Mare a Taranto tra solidarietà e promozione del territorio. Si è concluso ai piedi del monumento al marinaio il cammino per volare promosso dall'associazione Ali per volare Donato Marra, una iniziativa promossa da Cosimo Di Bello e da Elio Roma per avviare una raccolta di fondi per la costruzione della foresteria Donato Marra, un luogo in cui possano dimorare medici, famiglie e pazienti che si sottopongono alla terapia oncologica a Cartì presso l'ospedale Moscati. Un cammino percorso in prima persona da Stefania Terlizzi, la mamma di Donato Marra morto di cancro che ha fondato Ali per volare in ricordo del figlio. Tante le persone che hanno voluto percorrere assieme l'ultimo chilometro come l'onorevole Giovanni Maiorano, gli assessori comunali di Taranto, Azzaro e Lupino, l'assessore Lotta di Leporano, una giornata chiusa tra sorrisi, abbraccia e commozione da un liberatorio lancio di sassi nel mare. Noi cerchiamo di far urlare questo desiderio della crescita, della formazione della foresteria che possa avvenire quanto prima possibile perché il tumore non aspetta nessuno. Sasso su sasso alla fine arriveremo a raggiungere la costruzione di questa foresteria in memoria di Donato ma soprattutto in aiuto di tutte quelle famiglie che purtroppo Stefania non ha avuto quell'aiuto in quel momento, si è trovata sola, il figlio è stato solo. Le famiglie vanno supportate in questi momenti difficili. L'idea di realizzare una foresteria è un'idea magnifica.